Grazie, buongiorno a tutti, tu sai benissimo che in Allianz Partners abbiamo molte iniziative sulla diversità e l'inclusion, ma MyLight sta nel nostro cuore più di ogni altra cosa. Scusate la voce, sarà in ritardo i 50 minuti il freccia rossa che mi ha un po' innervosito, però adesso parliamo di cose importanti. MyLight è un progetto che nasce nel 2012 in Allianz Partners per includere 10 persone con disabilità visiva o diciamo ciechi, perché loro ci chiedono di essere chiamati con la parola che li definisce, ciechi o ipovedenti alcuni, nella nostra centrale operativa, una centrale operativa che lavora H24, 365 giorni l'anno per dare soccorso in tempo reale alle persone che ne hanno bisogno, invio di un carroattrezzi piuttosto che di un'ambulanza, un medico eccetera. Quindi è un'attività importante e quindi quello che noi abbiamo voluto fare è trasformare un obbligo di legge, in sostanza, ogni azienda deve avere una certa percentuale di persone con disabilità nella propria forza lavoro, in un'opportunità. Un'opportunità per delle persone, in primis queste persone non vedenti, che abbiamo messo nelle condizioni di lavorare come tutti gli altri nostri operatori, quindi fare un lavoro non di serie B, ma un lavoro qualificante, la dignità della persona passa attraverso il lavoro in modo fondamentale, quindi questo è il diritto che dobbiamo riconoscere a tutti, compreso le persone con diverse abilità o con disabilità. Questo è stato il nostro obiettivo. Abbiamo quindi sviluppato dei software dedicati a loro per permettere loro di lavorare nello stesso modo, sul nostro sito trovate anche un po' di dettagli per chi fosse anche interessato all'aspetto tecnologico. Abbiamo investito tanto in formazione, formazione per loro innanzitutto, ovviamente, ma anche formazione per le persone della nostra centrale operativa che si sono dovute abituare tutti noi a interagire con loro in modo normale e naturale, senza preoccuparsi di dire vedi che eccetera, che per loro non è un problema, ma anche aiutandoli a inserirsi comunque in un contesto che non è nato per chi non vede e naturalmente anche gli spazi dell'azienda sono stati adattati per rendere la loro permanenza in azienda sicura e anche piacevole, quindi percorsi tattili e tanto si può ancora fare in questo senso. Vi racconto queste cose perché questo ci dice che noi aziende dobbiamo investire per poter arrivare a questi risultati e questo naturalmente noi l'abbiamo fatto, ma per incentivare altre aziende a farlo, credo che questa sia una delle misure che il nostro governo dovrebbe prendere approfittando del Next Generation New e del PNRR. Questo è il primo messaggio. Noi come azienda Allianz Smart siamo a disposizione del primo passo di questo nuovo progetto che si chiama Beyond My Light, quindi andare oltre. Il primo è portare questa esperienza alle aziende che lo vogliano imparare e implementare, quindi siamo a disposizione e il modello può diventare un modello operativo e di integrazione non solo della disabilità visiva ma in generale delle disabilità e poi, ma non voglio spoilerare come direbbero i giovani troppo, l'intervento di Nicoletta che poi rappresenta i ragazzi della LUIS che hanno collaborato con noi in modo molto proficuo, andare oltre e quindi pensare alle persone non vedenti anche nella loro dimensione umana più ampia, non solo come nostri dipendenti, colleghi, ma anche come persone che devono arrivare in azienda, quindi hanno temi e problemi legati alla mobilità, ma anche al piacere dell'entertainment, alla formazione, al trovare nuovi posti di lavoro. Su questo abbiamo lavorato. L'ultimo accenno che faccio prima di passare la parola è una cosa che loro hanno fatto su mia spinta è andare a cercare dati e sono stati molto bravi, in tempi brevissimi hanno trovato dati europei e dati italiani, peccato che siano fermi al 2016-2017 e che quelli europei non si parlino spesso con quelli italiani. Questo ci dice che c'è già lì tanto da fare. Finché non abbiamo i dati, la consapevolezza dello stato attuale delle cose, si parla di 3 milioni di disabili in totale che diventano 12 se includiamo le famose disabilità non visibili. Bene, andiamo a quantificarle, andiamo a monitorarle, andiamo a clasterizzarle perché solo così potremo capire che interventi fare e poi misurarne i risultati. Grazie a tutti e a te la parola. Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Paolillo, team leader della missione 5 inclusione e coesione. Volrei cogliere l'occasione per ringraziare SEO4Life, l'Università LUIS e tutti i SEO coinvolti. La nostra task force ha avuto la possibilità di confrontarsi non solo con la SEO di Allianz Partners Italia, Paola Corna Pellegrini, ma anche con una rappresentanza femminile del suo team, le dottoresse Caterina D'Apolito ed Emma Trevisan, che ci preme ringraziare per il loro contributo. Dal primo incontro avvenuto il 20 ottobre, entrambe le parti hanno dimostrato un forte desiderio di collaborare non solo sugli obiettivi generali della missione, ma nello specifico sulla realizzazione di un progetto che permetterebbe l'inclusione sia per la loro vita quotidiana che in ambito lavorativo di persone con disabilità visive. È proprio dalla consapevolezza che le diverse abilità sono fonte di arricchimento di valore che Allianz Partners Italia condividerà con la SEO4Life Community l'esperienza maturata con l'implementazione del progetto MyLight. Infatti l'azienda ha già avuto modo di portare a termine i primi risultati con l'inserimento lavorativo di 10 impiegati con disabilità visiva all'interno della centrale operativa aziendale nel 2012. Visto poi il successo di questa iniziativa, Allianz Partners Italia desiderà supportare nella propria vita quotidiana e lavorativa questi lavoratori attraverso la creazione di una piattaforma digitale con un progetto che prende il nome di Beyond MyLight. Inoltre la nostra task force insieme ad Allianz Partners Italia ha intrapreso un lavoro di analisi qualitativa e quantitativa al fine di mappare ulteriori best practices internazionali pubbliche e private da replicare a livello nazionale con le risorse del PNRR per incentivare aziende pubbliche e private ad intraprendere progetti in questo ambito. È un piacere per noi portare avanti questa iniziativa e speriamo che il nostro contributo possa essere prezioso per Allianz Partners Italia quanto lo è per noi ma soprattutto per tutti i lavoratori con disabilità a cui questo progetto è dedicato. Grazie per a tutti.